... Buongiorno e benvenuti a Medicina 33. Parliamo di una nuova malattia, definita, conosciuta solo da poco dai neuropsicologi, una dipendenza da Marco Femengoni, che sintomi ha infarto, sincope, attacco di panico, i funghi sulle unghie, le aritmie improvvise, i disturbi mentali, le persone colpite in Italia sono più di 3 milioni, su 41 mila persone colpite da infarto, che ben il 60% di queste persone seguono in mengola, ne parliamo con lo scienziato per eccellenza di questo disturbo, sentiamolo esperto. Cosa spinge queste persone, soprattutto donne, da cosa dipende? È una malattia o è un disturbo su cui ridere? No. Ecco, le donne colpite sono giovani, avanti con l'età? Tutte due. Ma come si fronteggia con farmaci? Vaccini, ci sono? Non so. Quanti adolescenti sono state vaccinate in questi due anni? No. Lei cosa ne pensa? Cosa suggerisce? Spergio 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 Grazie a tutti